Ogni giorno, milioni di merci vengono movimentate nel mondo. Noi di ICAM siamo mossi da una visione. Avvicinare i materiali e i prodotti alle persone in modo rapido, sostenibile e sicuro. Che si tratti di allestire un ordine o di ripristinare le scorte, di ritirare o consegnare un palco, di vendere o acquistare un prodotto, o più semplicemente di depositare e ritirare un bagaglio, vogliamo custodire i materiali e le merci per renderli disponibili quando e dove servono, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Lavoriamo per costruire lo spazio giusto per la mobilità dei materiali e delle merci nella città del futuro. Per farlo progettiamo soluzioni automatiche per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita. Intelligenti come quelle di domani. Oggi. 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 Oggi.